Il piano italiano è partito, ha fatto quasi un anno di strada e adesso, come si sta già vedendo, occorre mettere a terra, come si dice, cioè rendere concreti molti fondi che sono già stati allocati, i bandi che sono stati lanciati e, come bisogna sempre tenere a mente, questi risorse, questi investimenti non sono fine a se stessi, cioè per spendere. Bisogna produrre risultati, per esempio un'istruzione migliore, competenze all'altezza delle nuove tecnologie e degli obiettivi di crescita digitale verde e poi bisogna che questi investimenti creino lavoro e lavoro buono. Quindi sono opportunità, ma è anche una grande sfida, per cui non è che viene fatta, certo il ruolo dello Stato, delle pubbliche istituzioni è importante, ma questo è uno sforzo, come dice sempre il Presidente Mattarello, che deve essere sostenuto da un'attività e da intenti comuni di tutta la nostra popolazione, delle forze sociali e delle istituzioni. Insomma questo sforzo enorme si fa, non solamente guardando i numeri e i dati concreti, che pure sono importanti, ma coinvolgendo il più possibile le persone ai vari livelli per fare un monitoraggio attivo e poi per trarre da questo monitoraggio forza per sostenere, perché il piano va avanti solo se qualche milione degli italiani lo sostiene. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!